La Giunta è totalmente assente sul tema dei nuovi ospedali, pur avendo, e oggi lo ha dichiarato, centinaia di milioni di euro di risorse lasciate in eredità, sia dalla Giunta di Centrosinistra che dal governo del Partito Democratico, prima Renzi e poi Gentiloni. Parlano oggi di circa 428 milioni di euro solo ad appannaggio del trasferimento statale e che cuberebbero investimenti per oltre 600-700 milioni di euro. Nonostante ciò, in 11 mesi non c'è traccia di alcun tipo di intervento, di nota, di corrispondenza con gli uffici del Ministero e le emergenze su ciascun presidio sono sempre più nette. Abdicano rispetto, da quello che si può comprendere in questi incontri, all'emergenza dell'ospedale di Chieti. Fa un passo indietro l'iniziativa che abbiamo messo in campo sugli ospedali di Lanciano e Vasto e forse salvano soltanto quella di Avezzano. Noi contestiamo questa programmazione che di fatto dice no a tutto quello che avevamo lasciato in eredità e che avevamo nel tempo recuperato rispetto a delle risorse che prima non c'erano e che invece nel corso della precedente legislatura avevamo messo a disposizione per un parco di investimenti molto significativo e che riguardavano Avezzano, Lanciano, Vasto, Penne, il nuovo ospedale di Chieti, Teramo e Penne col decreto sisma e si liberavano delle risorse anche per l'edilizia all'Aquila. Di tutto ciò non c'è traccia dopo un anno.